che apriamo questa mattina prima di presentarvi i nostri ospiti con una notizia che è stata abbattuta poco fa dalle agenzie e che mi ha un po' impressionato e che vi farà capire il tenore della discussione di questa mattina. Allora pensate che a Bordeaux in Francia per i prossimi giorni sono stati vietati gli eventi all'aperto, non perché ci siano nubi tossiche ma perché si prevede che le temperature saliranno talmente tanto da rendere rischioso anche fare qualsiasi concerto, celebrazione eccetera eccetera e all'interno, insomma al chiuso, solo saranno possibili i luoghi dove ci sarà l'aria condizionata. Accanto a me qui in studio Claudia Merlino, direttore generale della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Che impressione le fa questa notizia? È una notizia sicuramente allarmante, catastrofica, ma viviamo esattamente in una situazione tale, per cui colpisce che si prendano decisioni di questo tipo ma chiaramente se la situazione non cambia e non ci sono elementi per dirci che possa cambiare, almeno dal punto di vista meteorologico, soluzioni magari meno drammatiche e anche meno eclatanti di queste ma anche più quotidiane che incidono sul nostro quotidiano, occorrerà prenderle. Occorrerà prenderle, stiamo già vedendo che ci sono nei campi e poi dopo lei ce ne parlerà meglio, situazioni veramente al limite del collasso. Vedremo come e perché si può intervenire, lo chiederemo fra l'altro all'onorevole Rossella Muroni di Facciamo Eco. Buongiorno, ben ritrovata Muroni. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Buongiorno, perché fra l'altro oggi già molti quotidiani annunciano, prendo un titolo a caso per esempio di apertura quello della stampa, crisi del gas, l'Italia prepara l'allerta, vuol dire che insomma abbiamo un piano e cominciamo a prendere in considerazione l'idea di passare a un livello superiore dalla situazione di preallarme a quella di allarme. Vedremo questo che cosa significa. C'è anche il senatore Giampaolo Vallardi che è presidente della Commissione Agricoltura al Senato e della Lega. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. E so che si sta ragionando anche di una richiesta di messa in stato di emergenza e richiesta di stato di calamità naturale, me lo conferma? Sì, diverse regioni lo stanno chiedendo, dobbiamo capire adesso cosa fare, se andare regione per regione o fare una regia nazionale. Chiaramente l'acqua poi non ha confini e quindi credo che forse in questo caso un commissario sotto magari la regia della protezione civile potrebbe gestire bene le cose. Ecco, lei ci ha già anticipato un tema interessante, quello della possibile introduzione di un commissario straordinario. Un po' qualcuno ha detto il figliuolo della siccità, no? Sì, è un problema. Cambiamenti climatici ci hanno fatto trovare impreparati, non che non ne parlassimo da diverso tempo, però oggi dobbiamo affrontarlo, dobbiamo affrontarlo in maniera grammatica e soprattutto dobbiamo affrontarlo con razionalità e lo dobbiamo fare tutti quanti assieme cercando di dare le giuste priorità, perché l'acqua se la contende il mondo dell'agricoltura ma se la contende anche l'uso civile e quindi dobbiamo capire innanzitutto cosa fare oggi subito per venire fuori da questa situazione aspettando che piova, perché chiaramente siamo sempre ottimisti e speriamo che piova quanto prima, però dobbiamo capire come gestire la situazione attuale ma soprattutto non perdere più tempo per fare quegli investimenti di cui il nostro Paese ha assolutamente bisogno. E di questo parleremo fra un attimo, vedremo quali sono quelli che ci servono davvero e quelli che dobbiamo anche fare con una certa rapidità e quindi saluto anche il professor Maurizio Maugeri del Dipartimento Scienze e Politiche Ambientali dell'Università di Milano, buongiorno benvenuto. Buongiorno a tutti. E proprio lei speriamo ci aiuti a capire, a districarci un po' appunto fra queste varie politiche ambientali e il collega della Verità Carlo Cambi, buongiorno Carlo. Buongiorno che oggi fra l'altro firma un articolo tanto per farci stare sereni, peste e cavallette il governo è in vigile attesa così tanto per rassenerare la nostra mattinata Cambi. Non è colpa mia, però sull'acqua poi ce n'è molto da dire perché sono circa 30 anni che stiamo aspettando le dighe al servizio dell'agricoltura, la separazione delle acque agricole dalle acque civili e ci sarebbero anche quelle cose che si chiamano gli insalatori che avendo noi 8.500 km di costa e avendo noi la superficie agricola per il 60% affacciata sul mare ci risolverebbero tutti i problemi. Ma sai, dell'agricoltura se ne parla soltanto quando ci sono le crisi perché se no non è moderno farlo. Peccato che non si mangia tecnologia, si mangia grano. Esatto, non si mangia tecnologia, si mangia grano e anche dover scegliere se dare l'acqua alle piante in agricoltura o farci bere i cristiani non è che sia tanto, no, perché o mangio bene, cioè comunque è una cosa di fare. Scherzi a parte, Claudia Merlino, qual è la situazione reale? Abbiamo visto, anche il nostro telegiornale ha raccontato in questi giorni situazioni abbastanza preoccupanti. Il polso reale della situazione qual è in Italia? Il polso reale dell'agricoltura in Italia è quello che leggete, corrisponde assolutamente agli allarmi che sono stati lanciati da tutti. Quindi non è caricata la situazione? Non è caricata, siamo fortemente preoccupati, c'è una serie di fattori che convergono e di cui alcuni veniva ricordato prima, sono fattori che riguardano le fragilità del nostro sistema ormai da molto tempo, perché è vero che si parla di carenza di pioggia, di siccità non da oggi, i cambiamenti climatici si svolgono in archi temporali molto lunghi, ma la nostra capacità di affrontarli è sempre relativa all'emergenza e questo non va bene assolutamente. La situazione del settore quindi risente di una siccità assolutamente straordinaria, vi dico alcuni elementi così di costume ma reali, ovvero già la frutta estiva che siamo tanto abituati a consumare nelle nostre spiagge, miloni, cocomeri, avrà una riduzione nelle produzioni almeno del 30-40% a nostro avviso. Per non parlare poi del tema in cui si innesta la crisi Russia-Ucrania, ovvero in questi giorni al sud c'è la trebbiatura del grano e quindi cosa significa questo? Eventi climatici sulle produzioni che sono già in forte stress a causa della crisi, a causa delle speculazioni. Certo, perché fra l'altro noi in questi giorni chi ha sfogliato i giornali o sentito i telegiornali ha visto che si parlava soprattutto dello stato del Po, della grande sofferenza del Po eccetera eccetera, ma la situazione in realtà è drammatica a livello nazionale o c'è per il suo osservatorio particolare una particolare criticità lì? O forse semplicemente perché non eravamo abituati? Insomma, cioè dal Po si... Beh, diciamo che la situazione del bacino del Po colpisce più di altre e poi lì ovviamente è concentrata su una parte di agricoltura rilevante in termini di incidenza sull'agricoltura in generale, ma a nostro avviso e quello che ci dicono le nostre imprese, i nostri territori è che il problema è un problema generalizzato non soltanto relativo al bacino del Po e non soltanto più relativo a quei territori che erano abituati ad avere dei sistemi irrigui, cioè qui stiamo parlando di territori che non avevano bisogno di sistemi irrigui perché avevano acqua ogni anno che consentiva di non ricorrere a sistemi irrigui. Oggi dobbiamo pensare non soltanto a come efficientare i sistemi già esistenti, su questo credo che ne parleremo, ci sono risorse, ci sono opportunità, ma anche a cosa fare su tutta quella parte di agricoltura che fino a ieri non aveva assolutamente bisogno di irrigare artificialmente perché la pioggia c'era. E quindi arriva in preparato. Allora io vado subito dal professor Maugeri perché prima anche Carlo Cambio ha detto per esempio possiamo desalinizare l'acqua, ci sono possibilità infinite. Ecco, vorrei capire, intanto se sono tutte di accesso diciamo possibile, se e quanto convengono i tempi di realizzazione, cioè se stiamo parlando di qualcosa per cui mi dice ok, l'unica cosa che mi manca è eventualmente la volontà politica, basta che il governo, chi per lui, mi dia l'ok e io posso tentare di risolvere realisticamente questa situazione. Oppure se invece dobbiamo fare i conti con qualcosa di più grave, più importante, difficile da affrontare anche con tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione. Ma io credo che... Capisco che le ho chiesto qualcosa, una valutazione, insomma non proprio semplicissima però. No, no, tampissimo raggio, però cerco di rispondere anch'io volando un po' alto. Io credo che il problema sia proprio quello di non concentrarsi sull'emergenza che viviamo in questi giorni, ma di guardare un po' più in là. Il problema, la siccità che abbiamo adesso è anche un fatto casuale, una siccità di carattere meteorologico, però siamo in un momento di fortissimo cambiamento climatico. E questo cambiamento climatico sarà sempre più forte nei prossimi decenni. Quindi il problema è affrontare questo tema con grande decisione. E gli indirizzi che dobbiamo affrontare sono sostanzialmente due. Rimuovere le cause, quindi incidere sulle emissioni di tutti quei composti che determinano cambiamento climatico. E accanto a questo, che è il tema più importante, è rassegnarci che comunque per quanto saremo virtuosi ci sarà un forte cambiamento climatico nei prossimi anni, più forte di quello che abbiamo attualmente. Quindi, gioco forza, dobbiamo cercare di adattarci e imparare a usare meglio l'acqua che abbiamo è una delle strategie di adattamento più importanti. Quindi l'acqua disponibile di cui avremo più bisogno in futuro perché avremo temperature più alte, non sarà sufficiente a soddisfare tutte le nostre esigenze per come viviamo oggi, quindi dobbiamo imparare a sfruttarla meglio in tutti i settori. Quindi a 360 gradi, dall'agricoltura agli usi civili agli usi industriali, l'acqua bene e prezioso va imparata a usare con parsimonia e va imparata a usare nel modo più razionale. Va imparato e soprattutto bisogna avere la volontà di farlo perché, Rossella Muroni, io credo, insomma, forse ero bambina la prima volta in cui ho sentito dire che bisognava mettere mano ai nostri acquedotti perché perdevano un sacco di acqua. Io ero bambina parecchi anni fa. Abbiamo ormai una memoria lunga. No, c'è sicuramente il tema della riduzione degli sprechi, però c'è anche un nuovo modo di guardare alla questione, cioè il riutilizzo dell'acqua. Noi siamo cresciute in una società in cui l'utilizzo delle risorse naturali veniva considerato infinito sostanzialmente. Non è così, stiamo drammaticamente imparando. Quindi noi potremmo anche mettere in campo tutta una serie di azioni, dovremmo, dobbiamo mettere in campo tutta una serie di azioni che vanno sicuramente a dar risparmio, la riduzione degli sprechi, ma il riutilizzo perché poi noi buttiamo anche tantissima acqua. Noi siamo un paese in cui passiamo dalla siccità alle alluvioni senza in qualche maniera riuscire ad imparare qualcosa, almeno in maniera strutturale. E devo dire che i dati che si stanno registrando ha assolutamente ragione il professor Maugeri. Dovremmo smettere di guardare all'emergenza, naturalmente risolvere quello che sta accadendo, però anche fare un piano in cui, ad esempio, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finimente si mettano mano a quelle infrastrutture necessarie, non solo ai bacini idrici. In una legge recentemente approvata, che è il salvamare, abbiamo facilitato la realizzazione di impianti di dessalinizzazione. Sono tutte tecnologie, soluzioni che noi abbiamo. Manca un piano strutturale che guardi da qui ai prossimi 10-15 anni per far fronte a una situazione che sarà sempre di più così. Prima il senatore Vallardi diceva che avanzava l'ipotesi anche di un possibile commissario straordinario. Però mi sembra che sia più votato forse... Allora, quello che dice il senatore Vallardi è assolutamente comprensibile. Devo dire anche che non sono particolarmente orgogliosa del fatto che noi passiamo di emergenza in emergenza parlando sempre di commissari, perché c'è da realizzare i gastificatori. Abbiamo bisogno del commissario. Noi chiediamo un commissario sulle rinnovabili, cioè dovremmo anche piano piano tornare in un paese in cui non c'è bisogno del commissario per affrontare l'emergenza. Detto questo, io sono d'accordo, nel senso che è evidente che c'è bisogno anche qui di un allenamento burocratico e di attribuire a questo tipo di politiche l'interesse pubblico prevalente. Vale sulla lotta alla siccità, vale sullo sviluppo delle fonti rinnovabili. Stiamo scoprendo che il mondo è tutto attaccato e quello che succede sul gas non è discinto da quello che accade sul fronte della siccità. È il modello che noi stiamo continuando a portare avanti, che non funziona dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Sul gas ci arriviamo fra un attimo, ma per restare ancora un po' nell'ambito dell'agricoltura io mi chiedo poi chi e su quali basi prenderà delle decisioni. Perché per esempio, ma chiedo conferma in questo anche a Merlino, mi risulta che per esempio per risolvere il problema adesso proprio nell'immediato dei prossimi giorni delle piantine di riso che se no si seccano, al nord si sta valutando se o addirittura prendere l'acqua del lago di Garda attraverso il mincio portarla nel Po o aprire le dighe alpine. Ora non sono proprio due cose identiche, sovrapponibili, ci sarà una differenza che comporterà immagino anche scelte perché qualcuno verrà penalizzato e qualcuno verrà favorito, no? Indubbiamente. Indubbiamente come dici tu, sono tutte soluzioni di emergenza e anche l'emergenza a volte non consente di proporre delle soluzioni che stiano insieme. Mi risulta che quelli del lago di Garda si siano messi le mani nei capelli quando hanno sentito che c'era questa ipotesi, per esempio. Vabbè certo, io credo che, ma veniva detto prima, insomma una delle vere soluzioni diciamo parziali di un'emergenza così imponente non può che essere quella, è stato detto prima molto bene, cioè di fare quello che si può fare nell'immediato, nel quotidiano dal punto di vista degli agricoltori, ovvero di chi è in primo vittima di cambiamenti climatici così imponenti, non si può che pensare a un risparmio, a come mettere in atto subito un risparmio idrico attraverso dei, diciamo così, dei piani di accesso ai sistemi riguide, dei sistemi di turnazione che siano più monitorati, che siano più puntuali e questo certamente siamo in grado e abbiamo la responsabilità e abbiamo anche dato la nostra disponibilità a impegnarci in questo senso, ma ecco, sono delle soluzioni che nell'immediato tampone avranno qualche effetto. Le altre sono soluzioni a medio-lungo raggio, come le infrastrutture. Certo, però appunto, Carlo Cambi lo chiedo anche a te, secondo te come si arriva a, appunto dovendo decidere, dice c'è il commissario straordinario, dovendo decidere fra aprire gli invasi alpini e il lago di Garda, si apre una faida, una guerra, altro che la guerra dell'acqua, veramente? Assolutamente, sono due soluzioni irragionevoli entrambe. Ah, questo non sono, sì. No, nel senso che siamo all'ennesima volta in cui devi chiudere la stalla dopo che i vuoi ci sono scappati, tanto per rimanere in ambito agricolo. Voglio far notare che si potrebbe fare la parabola dell'acqua per raccontare l'Italia, perché ai nostri telespettatori dobbiamo pure dire che esiste una tassa che tutti coloro i quali hanno immobili in zone dove ci sono fiumi pagano ai consorzi di bonifica, i quali drenano una quantità inenarrabile di quattrini e non si sa che cosa le facciano in realtà. I consorzi di bonifica sarebbero quegli enti preposti a regimare le acque, a controllare le acque, probabilmente a trovare le soluzioni. Ti faccio notare che le resaie di cui si parla sono alimentate dal canale Cavour che ha 200 anni. Dopo Cavour non è stato fatto assolutamente più nulla per infrastrutturare un territorio che produce una delle ricchezze più importanti dell'agricoltura italiana. Faccio notare che noi siamo i primi produttori in Europa di riso e probabilmente i migliori produttori di japonica, cioè del riso quello a chicco grosso che siamo abituati a mangiare. Saluto Claudia che fra l'altro è bravissima nel suo mestiere in CIA, ma sa lei meglio di me che il tema centrale dell'agricoltura è sempre stato quello di non incidere sui processi decisionali perché spesso e volentieri è trattata come un'attività residuale rispetto alle esigenze del sistema paese. La stessa Unione Europea ce lo dimostra, hanno scritto una PAC che è folle, è una PAC in cui si chiede di produrre di meno per inquinare di meno spostando l'inquinamento nei paesi terzi. Non ci siamo resi conto che abbiamo un modello di sviluppo che è un modello di sviluppo sbagliato. Dobbiamo ritornare ad avere delle economie che diciamo che gioco forza ci troveremo a dover rimettere in discussione. Ti devo fermare perché devo andare in pubblicità. Ho finito, vai vai vai, scusami, dicevo ma sai se continuiamo a pensare che ci serve il commissario per arrestare l'emergenza evidentemente non andiamo da nessuna parte. Senatore Vallardi, dopo la pubblicità ritorno da lei e vogliamo capire meglio come funziona questa cosa. Sono le 8.27, riprendiamo la nostra discussione a partire dai problemi legati all'agricoltura e alla possibile proclamazione di uno stato di calamità, di quello che avverrà, anzi fra l'altro adesso piacerebbe anche capire di quali tempi stiamo parlando, mentre sui giornali questa mattina come vi dicevo si parla invece di una prossimissima riunione che farà il governo forse già lunedì o martedì, qualche giornale dice lunedì, qualcuno dice martedì, per discutere invece di un possibile stato di allarme e cambio di crescita di livello dell'allerta per quello che riguarda il gas e quindi di possibili razionamenti. Allora, senatore Vallardi, dicevamo, lei presiede la Commissione Agricoltura, lo stato di calamità, la presenza di un possibile commissario straordinario, che tempi potrebbero avere? Perché comunque qui stiamo parlando di colture che hanno bisogno davvero nel giro di poco tempo di interventi, sennò brucia tutto e ciao. Dobbiamo reagire con tranquillità, senza reagire in maniera disordinata. C'è un antico detto che dice che ci accorgiamo dell'acqua quando il posto è secco, no? È un po' quello che è successo anche adesso, è un antico detto ma è più che mai attuale. In Commissione Agricoltura ne parliamo da quattro anni, da quando è stata istituita, perché c'è una grande progettazione da parte dell'ANBI, che è l'Associazione Nazionale Bonifica Italiana, che dice che assolutamente bisogna aumentare gli invasi, bisogna fare più laghetti nel nostro paese a scopo in riguo. Oggi c'è la siccità, però non è che piova meno le precipitazioni. Nel corso dell'anno più o meno sono sempre le stesse quanto a volume, quanto a metri cubi, quanto a quantità. Ma davvero? Il problema è che piove troppo quando non si serve. Scusi, questa cosa, questa cosa, aspetti, aspetti, senatore, perché questa cosa che piova lo stesso quantitativo di acqua non mi risulta del tutto. Maugeri, professor Maugeri, lei ha dei dati su questo. Nell'arco dell'anno, nell'arco dell'anno. Sì, però, mi scusi, voglio fare una verifica, non perché non mi fido, ma maugeri, le risulta? Maugeri, ci sente? Ti avevo tolto il microfono, eccomi qua. Si confermo che il declino delle precipitazioni in Italia è modesto. Noi abbiamo fatto, per esempio, recentemente... Ecco, questo è molto interessante. Attenzione, perché il declino delle piogge non vuol dire che non ci sia carenza d'acqua. Noi abbiamo fatto uno studio sul bacino dell'Adda, per il quale abbiamo dato i giornalieri dal 1845. Ok. Dall'ora, dal 1845 ad oggi, il volume totale delle precipitazioni sul bacino dell'Adda è diminuito in modo quasi impercettibile, 5%. E quindi che cosa è successo? È diminuita del 20% circa la disponibilità d'acqua. Niente, il problema è stato tutto nell'aumento delle temperature. Fa più caldo, c'è più evapotraspirazione, quindi le stesse piogge non bastano più. Con una temperatura di 2-3 gradi più alta, abbiamo bisogno di più acqua, se vogliamo mantenere costanti gli usi. Il problema non sta nella carenza delle piogge, il problema sta principalmente nell'aumento delle temperature. Va bene, quindi no, perché siccome invece noi raccontavamo di questi quattro mesi in cui praticamente al nord in alcune zone non aveva mai piovuto, sembrava che fosse questa, invece lei ci sta dicendo, guardate, non è. Questo è questo episodio. L'andamento di lungo periodo vede segnali molto deboli, spesso statisticamente non significativi per le piogge. Il vero problema del cambiamento climatico sta nell'incremento delle temperature. Perfetto. Temperature più alte vuol dire bisogno di più acqua. Senatore, ritorno da lei, mi sembrava doverosa questa verifica, non perché appunto, è il mio mestiere verificare. Un po' non si fida, secondo me. Come? Un po' non si fida, secondo me. Un po' non mi fido, ma faccio bene, perché se io mi fidassi non sarei una brava giornalista. Questo non credo. No, era una battuta, però... No, grazie, professore. Ci è stata detta una cosa interessante che normalmente non emerge. Prego. Sì, è così. È così. Più o meno, piove sempre la stessa quantità, solo che piove troppo in inverno quando non ci serve, ed estate non piove quando invece l'acqua serve ai campi, serve all'agricoltura. quindi il problema è cosa fare. Esiste un piano di interventi già pronto, già progettato, ce l'ha in mano l'Ambi, ce l'ha in mano le regioni, sono progetti già approvati per la costituzione di laghetti, di invasi. E che cosa stiamo aspettando a fare? Per raccogliere e conservare l'acqua. Cosa stiamo aspettando a fare? Non solo a uso in rigo, ma serve anche a uso civile. Eh, ma che cosa stiamo aspettando? Bisogna investire subito, è stato investito da questo governo un miliardo di euro, ce ne servono almeno cinque volte tanto, servono subito cinque miliardi, magari modificando, basterebbe il 2% del PNNR, queste proposte sono state fatte al Ministro dell'Agricoltura, ma non c'è solo il Ministro dell'Agricoltura, è una conservazione tra il Ministro dell'Ambiente perché poi i laghetti bisogna più realizzarli, quindi servirà anche una procedura più veloce perché se decidiamo oggi ci vogliono almeno dieci anni per poterli realizzare. Dieci anni per... Dieci anni non ce li abbiamo. No, certo, certo, però Merlito la vedevo che era un po'... E quindi dobbiamo partire subito. Lei non mi sembrava del tutto d'accordo, che cosa non la convince delle parole del Senatore? No, 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 è evidente che il piano dei piccoli invasi è un piano serio ed è qualcosa che va portato avanti, quindi non c'è nessuna... Però dov'è l'inghippo? No, ma l'inghippo è immaginare che il PNRR sia una soluzione per l'emergenza, cioè non diciamo che il PNRR è una soluzione per l'emergenza, il PNRR ha destinato alle, diciamo, complessivamente... importante anche se non risolutiva, di 900 milioni di euro che saranno, diciamo, appaltati dal fine 2023 e le opere saranno realizzate entro il 2026, quindi stiamo parlando, diciamo, di un arco temporale che ci consentirà, finalmente, di fare delle operazioni di reale efficientamento delle strutture idriche esistenti che sono in capo ai consorti di bonifica, ma, ecco, la mia più che altro perplessità è di non trasmettere il messaggio che le risorse del PNRR possano essere utilizzate per risolvere delle emergenze. Le emergenze si risolvono con... Sono due binari diversi, un conto è l'emergenza di quest'estate e un conto è ragionare in prospettiva e per quest'estate c'è qualche cosa che si può fare nell'immediato? L'ho detto prima, insomma, cominciare a risparmiare e utilizzare tutte quelle metodologie sia di buon senso sia anche aiutandosi con le tecnologie esistenti per limitare al massimo l'utilizzo delle risorse idriche, lo dico ovviamente da parte degli agricoltori. Ci sono già 170 paesi che hanno l'acqua razionata e non hanno l'acqua alla noccia. Questo è il destino di quest'estate. Esatto. Rossella Muroni, detto questo, con appunto le autocisterne che vanno a casa in questi 170 paesi sono al nord in realtà al sud c'era una ahimè antica tradizione di paesi che si ritrovavano senza acqua la notte quindi quella non è una novità. Questo è lo shock, no? Eh, esatto. Qui forse nessuno era abituato in Piemonte o nel Delta Veneto a ritrovarsi con l'acqua razionata. Però mi sembra di capire che c'è insomma anche un problema ambientale, no? Perché quando il senatore Vallard dice ma poi bisogna fargli quei laghetti, bisogna trovare il permesso, bisogna... Cioè ci sono diciamo delle criticità, c'è un rischio di devastazione del territorio in nome del facciamo vasche ovunque? Ma guardi io il rischio c'è sempre non so come dire però se noi ci dividiamo tra i barbari e invece gli ambientalisti penso che non facciamo un passo avanti. Peraltro il mondo agricolo in questi anni ha fatto davvero una crescita importantissima sul fronte non solo della cultura della sostenibilità ambientale forse in realtà questa è stata sempre atavica proprio per il rispetto che l'agricoltura deve avere per l'ambiente ma anche dal punto di vista tecnologico delle soluzioni messe in campo la SCIA è un'associazione di agricoltori che su questo ha fatto scuola anche rispetto all'innovazione prima si diceva no? è un mondo marginale non è vero l'agricoltura è un mondo molto moderno allora la compatibilità tra l'impatto ambientale e la produzione agricola non solo è necessaria ma in qualche maniera è connaturata gli invasi vanno fatti naturalmente di giuste dimensioni in luoghi idonei quello che manca in questo paese ripeto vale su questo vale anche sulle rinnovabili facciamo come dire una programmazione delle aree idonee dove metterli dei criteri però una volta deciso una volta date le regole non si può bloccare tutto sugli iter autorizzativi perché davvero questo paese è impossibile da questo punto di vista se tu presenti un progetto e poi hai un iter di 2, 4, 6, 8, 10 anni sulle rinnovabili sull'acqua sulla mobilità su tutto quello che si decide di fare credo che sia un dramma in questo il conflitto tra i vari livelli dello Stato rimane centrale cioè tra le regioni il governo allora diamoci una strategia però su questo non si vuole fare il commissario per le cose che dicevo prima e che io in parte naturalmente condivido però chiamiamo allora i ministri alla loro responsabilità per cui giustamente si dice hai successo qualche cosa Muroni si è interrotta nell'attesa di ripristinarla vado da Cambi Cambi mi senti invece tu sono qua perfetto perché comunque le parole di Rossella Muroni ci stavano disegnando appunto un quadro di tutto sommato non una fortissima contrapposizione a livello politico sui macro temi ma come al solito invece diciamo il vecchio vizio italiano di affossare con la burocrazia con i lacci e i lacciuoli qualsiasi tentativo di mettere mano a una situazione è così o c'è invece diciamo una contrapposizione magari anche non dichiarata perché non è il momento e quindi non conviene perché ma senti io da quel che risulta a me i poveri agricoltori che non sono marginali vorrei continuare a ripeterlo sono considerati marginali i poveri agricoltori patiscono le penne all'inferno ogni volta che devono fare un investimento sui loro terreni perché l'iter autorizzativo è spaventoso approfitterei e lo dico all'onorevole presidente della commissione agricoltura della camera per fare una bella commissione d'inchiesta sui enti di bonifica perché gli enti di bonifica in questo paese distribuiscono stipendi altissimi incassano tasse da chiunque perché hanno questi quattro obblighi mettetevi a ridere beneficio idraulico beneficio di scolo beneficio di difesa e beneficio di disponibilità e regolazione idrica per fare questo ci sono credo una trentina di migliaia di dipendenti che hanno uno stipendio medio di 80 mila euro l'or di l'anno e la situazione attuale dimostra che questo è un sistema inefficiente c'è qualcuno che ci vuole mettere mano siccome questi enti di bonifica sono largamente finanziati dagli agricoltori e anche dai cittadini gli vogliamo dare un ritorno in termini di efficienza di servizio? ecco se cominciamo a ragionare così in questo paese forse non ci sono più le emergenze ma c'è una programmazione degli investimenti da fare indispensabili che servono a sostenere il settore più importante di tutte le economie il settore primario ti rispondo così sai perché? perché se no entriamo in un ginepraio di contenziosi che da anni ingestano qualsiasi intervento sui territori perché in nome di un ambientalismo secondo me più di facciata che di sostanza non si può fare nulla il risultato appunto qual è? è che vai di fronte che vai davanti ai disastri ambientali la notizia che è dato di Bordeaux se io fossi un francese mi metterei a piangere perché Bordeaux rappresenta per la Francia una miniera a cielo aperto lì si producono alcuni dei vini più importanti del mondo ha un fatturato quella zona francese straordinariamente significativo allora è possibile che ci accorgiamo della delicatezza dell'equilibrio ambientale e della indispensabilità del contadino custode soltanto nel momento in cui scoppia l'emergenza il contadino custode che l'Europa non vuole retribuire perché continua a ritenere che l'agricoltura sia nemica dell'ambiente è un errore non renderlo protagonista sai quando ero ragazzino io nelle campagne di mio nonno in Toscana i contadini facevano un lavoro straordinario di tutta la conservazione dell'ambiente quando noi ci riempiamo di un ambientalismo di facciata non ci rendiamo conto che senza agricoltura non c'è biodiversità che senza agricoltura non c'è sostenibilità che senza agricoltura non c'è tutela del territorio facciamo un errore enorme l'agricoltura va vissuta non soltanto come produzione di cibi va vissuta come produzione di benessere e noi questo ce lo siamo dimenticato e beh direi che invece in questi giorni ce lo stiamo ricordando le agenzie in questo momento battono una doppia notizia staffetta anticicloni africani altri dieci giorni roventi ahimè mi dispiace ma ce l'aveva detto anche Paolo sotto corona Rossella Muroni siamo riusciti a recuperarla? eccomi ecco allora stavamo stava chiudendo questo suo discorso e io ne approfitto allora diciamo così di questa di questa interruzione perché dicevamo poi queste notizie si intrecciano anche con quelle sul gas e oggi i quotidiani appunto ci ricordano che dalla prossima settimana probabilmente visto che continuano a tagliare Cingolani riunisce il comitato che se ne occupa e potrebbero decidere appunto di aumentare di livello nella scala dell'allarme e dell'allerta e quindi passare poi non nell'immediato ma insomma anche in questo caso a possibili razionamenti e ovviamente quello che si dice per esempio sulla stampa si dice però prima di arrivare a razionamenti ci sono altri passaggi come per esempio sfruttare di più ancora le 6 miniere di carbone per dire che ancora esistono in Italia il che vuol dire che da una parte ci preoccupiamo dell'ambiente diceva il professore non è che non piove piove di meno però fa più caldo ed è legato al cambiamento climatico dovuto a tutto quello che sappiamo e dall'altro continuiamo a usare il carbone ma noi non riusciamo ma noi questa cosa già la stiamo registrando perché nei primi tre mesi del 2002 noi abbiamo aumentato i consumi di energia del 2,5% naturalmente c'è la ripresa dalla fermo dovuta alla pandemia e abbiamo un aumento delle emissioni di CO2 dell'8% io quello che vorrei dire è che le soluzioni ci sono naturalmente come ci siamo detti sono nel medio e nel lungo periodo ma anche nel brevissimo periodo per collegare i due temi Flavia io credo che sia per esempio importante parlare di quanto è stato difficile in questo paese introdurre nel mondo agricolo paradossalmente anche qui il tema della produzione energetica perché le aziende agricole possono essere anche quei luoghi in cui attraverso l'agrivoltaico attraverso la realizzazione di impianti di generazione scusatemi di biodigestione anaerobica noi possiamo produrre anche energia pulita e biometano recuperando e perché tanta difficoltà? resistenza psicologica incapacità di accettare l'innovazione allora guardi noi abbiamo due fenomeni secondo me in questo paese da una parte c'è un NIMBI cioè non nel mio cortile ministeriale e in particolare io lo dico del Ministero della Cultura qui noi abbiamo impianti autorizzati dalle regioni che poi arrivano a Roma e il Ministero della Cultura a Fossa anche laddove sono stati fatti degli iter scrupolosissimi di approvazione sul fronte delle rinnovabili poi naturalmente c'è il NIMBI dei territori e c'è un ambientalismo un po' peloso lo dico così che è più preoccupato di salvaguardare la propria identità piuttosto che dimostrare che la questione ambientale non solo vince sul fronte della sostenibilità ambientale e della qualità della vita delle persone ma vince anche sul piano economico perché noi ormai abbiamo brevetti tecnologie ma anche saperi antichi come si diceva prima che ci consentono di continuare a fare economia e contemporaneamente difendere l'ambiente e quindi il mondo agricolo coinvolgerlo anche sul fronte della produzione energetica dell'autonomia energetica perché un'azienda agricola può diventare autonoma dal punto di vista energetico se si consente di fare gli investimenti agli agricoltori e come dire se non li si accusa immediatamente di speculare di voler abbandonare la produzione ci parla di eco-mostri davanti ai pianti di biodiversità inerobite perché un po' c'è anche questa cosa che vi accusano i rifiuti umidi vengono trasformati in biometano adesso non so se la Teresa Merlino conferma però è vero come si parla degli agricoltori voi prendete i sussidi dall'Europa queste sono le narrazioni ma sono molto contenta ed è in realtà vero che anche il clima non soltanto quello quello meteorologico ma il clima anche sta cambiando e mi fa piacere sentire da chi rappresenta mondi diversi dal nostro che abbia compreso intanto quali sono stati gli sforzi fino ad oggi che il settore ha fatto in particolare in Italia pensiamo a quanto l'Italia abbia investito sulla conversione al biologico rispetto ad altri paesi europei noi abbiamo raggiunto degli obiettivi assolutamente importanti e molto più alti rispetto ad altri paesi europei sul tema qui più che conversione al biologico forse bisogna fare una conversione alle culture come quelle nel deserto in Israele ma ci sono tante soluzioni che hanno bisogno di poca acqua ma per esempio in tema di ricerca di innovazione ci sono tutto il tema delle culture idroponiche sono quelle che ti consentono di risparmiare 135 litri a chilo di prodotto cioè un risparmio idrico importante a proposito di risparmio idrico a parità di produzione sulla questione energie rinnovabili ci vengo un secondo perché è un tema centrale non soltanto per l'agricoltura ma parte anche dall'agricoltura è evidente che agli agricoltori non hanno il minimo interesse ad essere degli speculatori perché signifierebbe cioè il nostro interesse è quello di consentire di avere degli impianti fotovoltaici ovviamente non a terra quindi non con utilizzo del suolo perché il suolo serve a noi è il nostro strumento di lavoro è la base della nostra vita quindi le energie rinnovabili si fanno sui tetti si studiano sistemi attraverso i quali non venga sfruttato il suolo perché non possiamo permettercelo è vero che e qui torno al tema della marginalità del settore da una parte sei centrale perché da una parte devi produrre energie rinnovabili poi quando si vanno a scrivere le norme si dice sì l'agricoltura è esclusa per esempio dagli incentivi alle rinnovabili quindi da chi sta spingendo a produrre più rinnovabili perché abbiamo bisogno di energia e può limitare la sua produzione di energia soltanto all'autoconsumo ora ditemi se questa può essere una soluzione va bene diciamo per la singola impresa ma in realtà non va bene per il sistema complessivo e non consenta a quell'impresa di fare degli investimenti che poi abbiano un margine certo allora senatore io devo andare in senatore Vallardi io devo andare in pubblicità fra 30 secondi e quindi non le do anzi l'anticipo così la recupero dopo perché poi su questo e anche ripeto sulla questione energetica volevo sentirla però andiamo in pubblicità perché dobbiamo capire che cosa succederà nei prossimi giorni 8 e 55 allora cerchiamo di chiudere la nostra conversazione senatore Vallardi io avevo detto che sarei arrivata da lei ma siccome durante la pubblicità io ho qui con me Claudia Merlino e continuiamo a chiacchierare mi ha detto una cosa che vorrei che ripetesse anche ai nostri telespettatori e ovviamente anche a lei perché poi potrebbe essere interessante un suo commento noi siamo partiti diciamo così dalla constatazione che il tema che ci siamo posti parlavamo del gas legato all'Ucraina legato alla guerra il tema del grano che non arriva e che sapete è fermo nei porti nei porti ucraini rischia di mettere in crisi l'alimentazione soprattutto di alcuni paesi africani ma la questione è che in realtà non è che non c'è il grano cioè non è che se non c'è il grano ucraino si muore di fame perché non c'è sufficiente grano nel mondo il grano nel mondo c'è semplicemente il grano ucraino costava poco e quindi lo potevano comprare quei paesi il resto del grano costa molto di più e quindi quei paesi fanno fatica a comprarlo e allora Claudia Merlino mi diceva sì dice da noi per esempio hanno sbloccato questa cosa hanno permesso di coltivare quanti ettari 200.000 200.000 che prima erano bloccati è una decisione della commissione europea per dire veniamo incontro dicendo ah così con questi 200.000 ettari in più finalmente gli agricoltori europei potranno coltivare e quindi ci forniranno il grano che manca ma voi non lo fate perché non vi conviene non perché costa come quello costa di più cioè non è come quello ucraino è questo il vero tema il tema è questo allora questa misura che fu presa insomma agli inizi della crisi ed è esattamente quella che tu ricordi quindi la messa a disposizione di 200.000 ettari in deroga determinate norme europee che si chiamano greening bene l'annuncio diciamo sulla carta è interessante però gli agricoltori non è che hanno festeggiato il problema non è come correttamente ricordi la disponibilità di terra il problema è la non percorribilità di questa opzione perché non ci sono margini per andare a coltivare questi 200.000 ettari ricordo a tutti quanti e lo sappiamo bene insomma siamo tutti del settore cioè non mi conviene a prescindere siccità o non siccità la siccità è stato il fattore i cambiamenti climatici sono stati uno dei fattori determinati per cui noi nel tempo abbiamo ridotto in modo drastico la produzione di alcune nostre coltivazioni in primis quella dei cereali non è vero invece per il grano duro in cui siamo autosufficienti per il grano tenero ci riformiamo verso altri paesi europei ma ad oggi un produttore di grano del sud io ti devo fare un esempio dal punto di vista dei costi che sono lievitati per una serie di congiunture i fertilizzanti le cose se l'anno scorso spendeva indicativamente 6.000 euro per i fertilizzanti l'anno un'azienda di 50 ettari oggi ne spende 26.000 siamo passati da 6.000 a 26.000 la stessa cosa riguarda il gasolio quindi l'anno scorso ne spendevi stessa azienda 50 ettari ne spendevi 6.500 oggi ne spendi almeno il doppio 12.000 allora è evidente che mi puoi regalare tutta la terra che vuoi ma io non la coltivo perché non mi conviene non ce la faccio non ce la faccio in più si attendono speculazioni ovviamente dovute poi allo sblocco di questi famosi 20 milioni che sarebbero fermi nei porti ucraini quindi diciamo è che la situazione a attendere è ancora ulteriormente preoccupante allora arrivo da lei senatore ma faccio un'altra deviazione ancora perché voglio sentire da Maugeri dal professor Maugeri se stante questa situazione c'è modo di pensare che invece ci siano possibilità di diciamo coltivazioni più convenienti che quindi permettano sia di garantire un risultato in termini appunto di prodotto sufficiente e ragionevole e come costi contenuti perché poi da lì immagino derivino anche le politiche se no come ci diceva prima Merlino l'Europa decide liberiamo i terreni fa quest'operazione che sembra tanto è e invece risulta demagogica guardi uscirei ancora una volta dall'ottica delle emergenze mi metterei piuttosto in un'ottica di un orizzonte pluridecennale noi dobbiamo veramente adattarci al cambiamento climatico e quindi indubbiamente convivere con quello che sarà il nostro futuro questi episodi di siccità ci insegnano quanto importanti siano le variabili meteorologiche nella nostra vita di ogni giorno quindi dobbiamo far tesoro anche di questi estremi per capire quale sarà il nostro futuro a tempo un po' più lungo e quindi non è mettere in atto tutte le strategie e non è escluso che anche bisognerà cambiare quello che si produce perché alcune varietà che vengono attualmente prodotte in Italia nel Pacino Padano per esempio potrebbero non essere più compatibili con il clima italiano del futuro cioè lei dice per esempio il pomodoro di cui adesso la pianura padana è praticamente regina forse non converrà più ma forse il mais non sarà più facilmente producibile ci sono da fare delle riflessioni su questo perché questo significa adattarsi ai cambiamenti climatici ovviamente allora senatore a questo punto vengo da lei perché la commissione del senato oltre che occuparsi dei bacini e anche siete voi che doveste dare delle linee guida di intervento e soprattutto vorrei capire i tempi invece qui torniamo sull'emergenza di un eventuale stato di calamità lei diceva si sta discutendo se dichiararla a livello nazionale o a livello regionale guardi la commissione agricoltura dovrebbe dare gli indirizzi indirizzi ne abbiamo dati tanti e ne stiamo dando tanti bisogna capire poi quanti di questi indirizzi vengono recepiti nel senso che per quanto riguarda i piani invasi sono quattro anni che ne discutiamo l'abbiamo portato in aula qualche successo l'abbiamo anche ottenuto perché siamo riusciti a spostare di due anni l'intervento del deflusso ecologico che era molto più restrittivo del deflusso minimo vitale cioè l'acqua che può scorrere all'interno del fiume prima che gli agricoltori possano prelevarla quindi è un problema quello della siccità che già da tempo abbiamo affrontato e che abbiamo anche dato delle possibili soluzioni ma le soluzioni vanno attraverso alcune linee il primo è gli investimenti su quei contenitori su quei laghetti che servono a contenere l'acqua quando arriva quindi l'inverno perché ci stiamo avvicinando con i cambiamenti climatici alla stagione delle piogge e alla stagione della siccità un po' come succede in India con i monsoni quindi dobbiamo adeguarci poi ha ragione il professor Maugeri i cambiamenti climatici prevedono anche delle modifiche sul tipo di piante che andiamo a mettere nei nostri terreni e qui da diverso tempo stiamo ragionando con il governo anche per aprire nuove biotecnologie perché servono piante più resistenti diceva giustamente lei prima che è intervenuta pensare delle piante che resistono alla siccità non certo quelle che crescono nel deserto ma penso al genoma editing penso alla ricerca che può sicuramente modificare il genoma delle nostre piante per rendere più resistenti da un lato alla siccità ma anche penso dal punto di vista ambientale alla resistenza ai parassiti e quindi un grande uso inferiore degli antigritogamici usiamo molti meno antigritogamici se abbiamo delle piante più resistenti quindi dobbiamo aprire alla ricerca ricerca perché qualcuno non inalberi subito la questione dell'organismo geneticamente modificato però perché no assolutamente no il problema mi scusi mi scusi un attimo perché altrimenti facciamo confusione gli organismi geneticamente modificati sono sempre stati combattuti da tutti ed è un problema già superato nessuno vuole gli organismi geneticamente modificati altro discorso è aprire alla ricerca gli altri paesi europei penso alla Spagna che invade i nostri mercati con i loro prodotti sono tutti quanti prodotti che arrivano da piante che hanno avuto il genoma modificato quindi sono piante più resistenti piante che producono di più frutta che viene più bella alla presenza visiva il famoso visual food che noi ci troviamo sulle bancarelle possono usare meno antiparassitati ma quelle piante da cui provengono sono geneticamente modificate ecco e quindi l'Italia soffre anche dal punto di vista economico questa differenza di normativa rispetto agli altri paesi la Spagna la Francia le può produrre l'Italia no questo cosa significa che sommato ai cambiamenti climatici che ci mettono in difficoltà perché meno acqua significa prodotti inferiori prodotti anche meno belli dal punto di vista estetico perché quello che si riesce a produrre sicuramente sarà meno rigoglioso meno bello ci porta di fronte al fatto che dobbiamo intervenire subito dal punto di vista legislativo per recuperare il tempo perso le nostre università sono bravissime dal punto di vista della ricerca basterebbe poter scaricare subito a terra i risultati che abbiamo avuto dai nostri ricercatori lo dicono anche tutte le associazioni di categoria lo abbiamo fatto presente al governo quindi le soluzioni ci sono dobbiamo solo metterle in atto ecco perché fra l'altro in Spagna poi c'è una situazione ancora particolare perché mi risulta che ci sia una desertificazione che avanza a velocità enorme incredibile e soprattutto nel sud della Spagna che fra l'altro io non sapevo viene chiamata la zona del mare di plastica ma per le serre che ci sono quindi siamo vi fanno le scarpe un po' gli spagnoli insomma ormai ahimè su tanti temi su tanti costi e su tante produzioni abbiamo perso nel tempo con l'acqua ma io credo che abbiano abbiano assolutamente lo stesso problema non è soltanto l'Italia che è nella tempesta perfetta i cambiamenti climatici ovviamente riguardano tutto il mondo e mi risulta che anche gli altri paesi abbiano gli stessi problemi probabilmente altri paesi hanno meno problemi in termini di carenza delle infrastrutture esistenti questo è il tema ecco allora devo chiudere chiedo a Carlo Cambi che appunto avevo segnalato questa mattina quando abbiamo cominciato la nostra trasmissione questo suo articolo peste e cavallette governo in vigile attesa perché secondo te il governo comunque non si sta muovendo con la velocità che sarebbe necessaria perché le cavallette ci sono sono in Sardegna così lo diciamo per chi si fosse perso che c'è anche l'invasione delle cavallette in realtà da qualche anno però almeno da 2-3 anni sì però le cavallette sono un problema abbastanza circoscritto in Sardegna non si è fatto nulla per debellarle e va bene beh mica tanto poveracci c'è un problema di inefficienza della regione no hanno fatto pochissimo ma non gli agricoltori sono soliti sì la peste suina ti faccio notare che il primo episodio di carcasse di cinghiali trovati infetti eh sì niente l'unica cosa che è stato fatto è un confinamento Carlo non ti abbiamo sentito devi aspetta perché ci hai lasciato la prima carcassa riprovo sì la prima carcassa di cinghiale prime carcasse cinghiali infetti è stata trovata il 5 gennaio ok la il massimo provvedimento preso è stato confinare alcuni territori con la speranza che il cinghiale non migrasse ce li abbiamo lo sai meglio di me meglio di me perché abiti a Roma i cinghiali che fanno la spesa alla coppia no no io me lo sono proprio trovato che mi camminava a fianco mentre la mattina alle 5 in bicicletta veniva al lavoro esatto non è stato fatto assolutamente niente io ero molto vaga ma insomma il cinghialotto mi camminava guardo Claudia in studio e perché so quanto la scia si è battuta per il contenimento degli ungulati se tu spari a un cinghiale rischi l'arresto in questo paese vabbè magari così sparargli così direttamente forse insomma no però certo un abbattimento selettivo ma scusate ma esatto adesso siamo arrivati che vogliamo sterilizzarli attraverso il vaccino tra un po' gli metteremo pure la mascherina nel cinghiale quando hai già dovuto abbattere mille maiali nel Lazio ma il problema qual è è che se questa peste sale e attacca la food valley di Parma di Reggio Emilia eccetera eccetera tu dici addio a 20 miliardi di fatturato di cui c'è 5 all'export allora la domanda è sempre la stessa è possibile che per un malinteso ambientalismo noi mettiamo la possibilità gastronomiche culturali agricole di questo paese ti dico solo l'ultima cosa perché sennò divento più risso per farti capire le assurdità in cui ci muoviamo lui ha bloccato i terreni sì al volo però finisco senatore al volo al volo al volo facciamo una cosa il senatore risponde a questa domanda e poi chiudiamo sì ma guardi la risoluzione perché bisogna anche fare nomi e cognomi è stata bloccata dai 5 stelle sono tre anni che i 5 stelle non vogliono l'abbattimento dei cinghiali quindi bisogna anche alla fine fare nomi e cognomi perché in questo paese l'ambientalismo sì ma c'è anche una classe politica che poi mette i bastoni tra le ruote una risoluzione approvata in commissione in aula non è potuta andare perché i 5 stelle non vogliono quindi dobbiamo anche capirci alla fine perché i problemi ci sono le soluzioni ci sono ma dobbiamo anche capire chi non vuole risolverlo va bene allora parlare male dei 5 stelle in questi giorni è un po' come sparare sulla croce rossa sono sono riprendono di mira tutti però no era una battuta ci ritorneremo su questo su questo aspetto intanto devo devo chiudere stanno tentando di farmi capire una cosa ma non ok perfetto grazie dobbiamo andare in pubblicità e poi ci ritroviamo l'ultima parte di Omnibus abbiamo invitato Marco Cappato sapete che c'è una questione che ci vede coinvolti tutti che ha a che vedere con l'eutanasia e la possibilità di decidere della nostra vita fino alla fine ci sono stati due episodi che hanno riportato questa vicenda in primo piano ne parleremo subito dopo la pubblicità allora sono le 9.18 in questo momento chiudiamo la nostra trasmissione dedichiamo questi ultimi 20 minuti a parlare con Marco Cappato Marco Cappato sapete è il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni che è l'associazione che ha permesso sostanzialmente a Mario così lo abbiamo conosciuto nei giorni scorsi in realtà si chiamava Federico di mettere fine alla propria vita con un'azione di suicidio assistito che in realtà risultava non possibile nel nostro paese e invece grazie alla tenacia dell'associazione Luca Coscioni e alla conoscenza anche dei meccanismi che regolano le nostre leggi è stata possibile buongiorno Cappato buongiorno buongiorno a lei a chi ci ascolta mentre succede mentre l'associazione Luca Coscioni assisteva Federico Federico altre persone decidevano di porre termine ai loro giorni e lo facevano però utilizzando la sedazione profonda è il caso per esempio dell'onorevole Laforgia l'ex onorevole Laforgia sapete che è stato anche presidente della regione Emilia Romagna ci ha messo tre giorni per morire Laforgia e la moglie aveva parlato di una inaccettabile ipocrisia nel suo caso ecco sui quotidiani insomma fra chi riflette su questo tema si è aperta in questi giorni proprio questa discussione cioè se sia preferibile la sedazione profonda quindi diciamo il non intervenire ufficialmente direttamente o fare quello che ha fatto l'associazione Luca Coscioni cioè permettere a una persona di come nel caso di Federico di azionare insomma sostanzialmente lui o comunque insomma di dire lui sì andate a un veleno perché chiamarlo farmaco non so se sia corretto poi lo vedremo che ha posto insomma termine alla sua vita nel giro di dieci minuti qual è la differenza cappato e perché secondo lei si discute adesso di questo tema è l'ennesimo tentativo di allontanare la scelta nel nostro paese non c'è una soluzione preferibile rispetto a un'altra è importante che sia il paziente a poter scegliere ovviamente avendo avuto tutte le informazioni dal medico in Italia è legale sospendere qualsiasi terapia ed è legale grazie alla costituzione e alla legge sul testamento biologico farlo anche per trattamenti vitali cioè che se li si sospende poi la causa è il decesso del paziente il paziente può anche farsi sedare se è questa la sua scelta e quindi in questo caso la morte arriverà per la sospensione dei trattamenti sotto sedazione e ci potranno volere poche ore pochi minuti poche ore o alcuni giorni questo è perfettamente legale è perfettamente legale però anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale sul mio processo per la disobbedenza civile su DJ Fabbo Fabiano Antoniani per alcuni tipi di pazienti anche l'aiuto medico al suicidio cioè una situazione dove invece che farsi staccare interrompere le terapie e farsi sedare il paziente può decidere di auto assumere una sostanza eutanasica il paziente è legale farlo se il paziente è lucido e consapevole qui non si contestava la legalità però no no io spiegavo la differenza certo certo spiegavo la differenza la differenza tra le due cose per cui non c'è una cosa giusta e una sbagliata se un paziente sceglie che tutto sommato nella sua condizione farsi sedare e lentamente andare a morire è una soluzione che va bene ottimale lo sceglierà come costantemente può accadere da oggi grazie al coraggio dico di Federico Carboni è anche chiaro che si può scegliere un altro modo perché alcune persone scelgono un altro modo perché DJ Fabbo Fabiano Antoniani è andato in Svizzera perché non voleva che sua madre dovesse aspettare 5, 6, 7, 8 giorni di fianco al suo corpo per vedere se finalmente era morto di fame e di sete la fermo ma questa è stata la scelta di certo la fermo su questo punto perché questo punto è è quello sul quale ha ragionato Lucetta Scarafia che come sappiamo fra l'altro riflette anche certe perplessità soprattutto del mondo cattolico e quindi proprio di questo vorrei parlare con lei perché credo sia giusto capire quelle che sono le principali resistenze Scarafia dice si tratta di solito di persone che hanno alle spalle non certo un giorno non certo due ma anni di sofferenze quindi Scarafia dice che differenza volete che faccia aspettare tre giorni tre ore o otto giorni e o invece morire nel giro di dieci minuti è una scusa sostanzialmente è un atto politico quello dell'eutanasia e l'altra questione che non dice direttamente Scarafia ma che emerge comunque dai ragionamenti è che l'eutanasia richiede per esempio anche nel caso per esempio di Federico un macchinario che è costato 5 mila euro e che ha pagato l'associazione Coscioni e questo farmaco inteso forse alla greca come veleno che avete sempre comprato voi e che ha permesso a Federico di morire che qualcuno contesta sia pagato dal servizio sanitario nazionale perché appunto non è una medicina non mi cura mi uccide sono due contraddizioni importanti riusciamo a scioglierle allora a Lucetta Scarafia ribalterei un po' la domanda perché no è un atto politico impedirlo non consentirlo là dove tutto è consentito quello di cui stiamo parlando cioè sedazione terminale suicidio medicalmente assistito eutanasia attiva volontaria vera e propria cioè in Olanda le persone solitamente scelgono l'eutanasia nemmeno il suicidio assistito e meno che mai la sedazione perché lo fanno perché lo preferiscono perché è più veloce è meno rischioso nei tempi e nel processo una volta deciso uno preferisce Federico Carboni era cosciente e cinque secondi dopo era definitivamente addormentato e pochi minuti dopo la famiglia che era nell'altra stanza ha potuto piangerne la morte altrimenti ci avrebbero messo due giorni tre giorni quattro giorni non cambia niente per Lucetta Scarafia non lo so forse magari fosse per me potrei essere d'accordo con lei ma perché dobbiamo decidere al posto delle persone questa è la vera domanda perché continuiamo avere la pretesa la presunzione e a volte la violenza di volere decidere per gli altri la questione del farmaco è una questione inesistente perché il farmaco di per sé costa pochissimo non è un problema del costo del farmaco il macchinario è un macchinario complesso che riguarda soltanto le persone che sono completamente immobilizzate e che mentre in Svizzera accade che basta bere un bicchiere con la sostanza eutanasica quindi non serve nessun macchinario né serve in Italia per il suicidio assistito se la persona però come nel caso di Federico o di Fabio Ridolfi è completamente paralizzata allora serve un macchinario che una volta acquistato lo abbiamo acquistato grazie ai contributi dei cittadini adesso è a disposizione per chiunque altro avrà questa necessità sì però lei capisce che è una cosa generosissima quella dell'associazione Coscioni però lei capisce che il tema il tema resta cioè se il servizio sanitario si debba per carico aspetti il servizio sanitario si fa carico di ante cose che secondo me sono anche meno essenziali di poter morire senza soffrire non mi sembra una cosa di poca importanza ma se anche volessimo sostenere che questi costi non se ne deve fare carico la comunità stiamo parlando di costi minimi cioè non è che ogni paziente che lo sceglie bisogna spendere 5.000 euro per il macchinario acquisito il macchinario può essere usato per altri pazienti mi verrebbe da dire anche se un po' diventerebbe un po' triviale come discussione lo compriamo noi l'abbiamo già comprato che il tema dei costi per il servizio sanitario è un tema inesistente è lo 0,00000 non saprei quanto di quello che si spende credo che sia dignitoso evitare di chiedere anche pochi euro a una persona che già magari da 13 anni è in una condizione o da 18 anni come nel caso di Fabio Ridolfi immobilizzato senza poter parlare nemmeno parla solo col movimento negli occhi allora noi gli diciamo che no deve dare anche 5.000 euro sono assolutamente d'accordo con lei ma come sa chi si oppone trova trova come dire appigli ovunque e questo dei costi come puoi immaginare ha avuto facile presa però a questo punto si pone un altro tema lei oggi ne parla in un'intervista che ha rilasciato ma era evidente che insomma si sarebbe arrivati lì alla questione della legge è vero che si è tentato anche un referendum che poi la Corte Costituzionale non ha permesso che venisse fatto fra l'altro lo segnalo per chi dice che è colpa vostra che non lo fate il referendum perché ogni tanto si leggono anche queste cose oggi c'è una lettera abbastanza singolare sul Corriere della Sera una signora che vi rimprovera dice avete fatto quelli sulla giustizia e non quelli sull'eutanasia ma voi ci avete provato insomma quindi almeno questo vi va reso atto ma invece il tema importante è veniamo alla legge perché c'è una legge in discussione a seguito proprio della sentenza fra l'altro del suo caso di Jay Favo per cui la Corte ha detto ora basta però bisogna che il Parlamento faccia una legge ma se dovesse essere approvata questa legge al Senato perché la Camera è già passata in realtà un'eutanasia un suicidio come quello di Federico dell'altro giorno sostanzialmente non sarebbe possibile o comunque lo sarebbe con molta difficoltà conviene spingere perché una legge venga approvata a questo punto che ci vuole una legge è indiscutibile ma una buona legge perché ci vuole una legge perché anche con la sentenza della Corte Costituzionale per esempio faccio un solo esempio sono esclusi i malati terminali di cancro i pazienti oncologici perché non sono tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale cioè siccome non sono attaccati a delle macchine e quindi non potrebbero avere nulla dal quale sospendersi staccarsi allora vengono esclusi dall'aiuto al suicidio ma la Corte Costituzionale si riferiva al caso di DJ Fabo e diciamo lo definiva ma se si fa una legge non c'è nessun motivo per mantenere questa discriminazione quindi se si fa una legge per dare tempi certi Federico ha dovuto aspettare due anni e per eliminare la discriminazione nei confronti dei pazienti oncologici sarebbe una legge fondamentale per il nostro paese io dico anche intordurre l'eutanasia attiva ma ci si potrebbe accontentare di un buon compromesso il problema è che la legge che è stata approvata in fretta e furia alla Camera allora la legge può ancora essere modificata la legge che è stata approvata alla Camera in fretta e furia guarda caso proprio quando la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum non è un caso bisognava dare un segnale positivo contro la rabbia delle persone per il fatto che fosse stato bocciato il referendum ora la legge quella legge è impantanata al Senato 80 audizioni e ne stanno facendo ancora e il ragionamento dopo mesi e mesi di ritardo comincia a essere da parte in particolare del Partito Democratico non possiamo cambiarla la legge approvata alla Camera perché se no poi deve tornare alla Camera e ci vuole troppo tempo e manca poco alla fine della legislatura ecco questo ragionamento non è accettabile primo perché il Parlamento è fatto per discutere e anche modificare la legge secondo perché il caso di Federico ormai ha dimostrato che la legge approvata alla Camera è peggiorativa rispetto alla situazione attuale però la domanda è lei sa benissimo che soprattutto a destra c'è una fortissima resistenza nell'approvare qualsiasi tipo di legge anche questa diciamo che lei definisce peggiorativa il rischio è che quindi però non si faccia cioè se i tempi come dice lei si affrontano e si cambiano eccetera eccetera se si allungano rischia di saltare tutto e allora allora è chiaro che se non c'è una maggioranza parlamentare per approvare una buona legge sul suicidio assistito non c'è non la posso fare io non la posso fare il PD non la posso fare però non boicottare l'azione del PD e del Movimento 5 Stelle questo dicevo in un calcolo realistico di convenienze che cosa conviene alla fine no no ma scusi non è che la destra se la legge discrimina sui pazienti oncologici la vota altrimenti non la vota la maggioranza è la stessa la destra non la vota comunque l'altra almeno gliela votano PD e Movimento 5 Stelle ha fatto i suoi conti sì ma allora se la maggioranza è quella io non capisco perché PD e Movimento 5 Stelle debbano portare avanti una legge che peggiora la situazione attuale allora facessero gli emendamenti necessari perché sia una buona legge se riescono a farla passare bene se no almeno non abbiamo impeggiorato le cose ma che siano proprio PD e Movimento 5 Stelle a fare che cosa intendo per peggioramento voglio essere chiaro che sia ancora più limitativa si è capito che limita ancora di più l'accesso certo ma faccio un esempio concreto faccio un esempio concreto non bastano le sofferenze fisiche insopportabili devono essere anche psicologiche insopportabili e come lo si fa a stabilire di preciso significa dare la possibilità ai servizio sanitario di boicottare impedire ogni volta a piacimento le domande di suicidi assistito allora se bisogna fare una legge del genere beh allora è meglio che invece persone come Federico Carboni con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni possano continuare in futuro grazie al precedente che si è aperto a ottenere l'aiuto medicalmente assistito fare una legge che la destra non vuole ma farla peggio della situazione attuale sarebbe proprio un capolavoro di inutilità o anche controproducente capato io non le ho fatto raccontare nulla di quella giornata perché questa è una tradizione che si occupa di politica e come puoi immaginare insomma io ho molto pudore anche di questi sentimenti però se adesso proprio in chiusura mi vuole dire una cosa a conclusione una vicenda che comunque è delicata dolorosa abbiamo il tempo ancora per dirla ci sono due cose che mi hanno in qualche modo confortato in una situazione che è sempre una situazione tragica come quella di una morte Federico era lavato pulito sbarbato sorridente ha voluto che fossimo tutti eleganti come una festa di commiato e la mamma immaginatevi cosa possa essere per una mamma una situazione del genere era d'accordo ha sofferto ha pianto ma sapeva e ce l'ha detto che quella era una cosa che ormai non era più rinviabile perché soffriva troppo ecco queste sono le situazioni dove è giusto poter aiutare la persona a decidere per se stessa senza imporre le nostre scelte agli altri grazie grazie Marco Cappato speriamo bene per il futuro di questa legge di questo paese e noi ci vediamo se volete domani mattina buona giornata grazie a tutti grazie a tutti